buonasera parliamo dell'esistenza dell'aldilà in questa terza parte vedremo l'aldilà secondo la teologia cattolica cioè spiegherò in sintesi che cosa crede la chiesa cattolica a riguardo dell'aldilà per quanto riguarda l'aldilà ovvero che cosa esiste dopo la morte ogni religione ha il suo punto di vista quindi ogni religione alla domanda che cosa c'è dopo la morte da una risposta diversa vediamo in questa lezione qual è il punto di vista della chiesa cattolica che cosa c'è nell'aldilà secondo la fede cattolica cosa avviene quando si muore innanzitutto secondo la fede cristiana la morte non è la cessazione dell'esistenza dell'individuo ma la morte è solo un passaggio dalla vita terrena alla vita eterna inoltre bisogna ricordare che secondo il cristianesimo non ci sarebbe reincarnazione il concetto di reincarnazione non è infatti presente nella dottrina cristiana è vero che alcuni cristiani affermano di credere nella reincarnazione quindi aggiungono alla fede cristiana la dottrina della reincarnazione ma secondo i cristiani in generale non c'è reincarnazione i cristiani non credono nella reincarnazione ma nella risurrezione quindi secondo il cristianesimo un'anima diciamo passa in questo mondo terreno soltanto una volta secondo il cristianesimo con la morte l'uomo decide il suo sì o il suo no a dio ovvero al momento della morte si combatte l'ultima decisiva battaglia tra il rifiuto e l'accettazione di dio e della sua salvezza secondo il cristianesimo dio che è buono e vuole la salvezza di tutti da grazie particolari di luce all'intelligenza e di forza di volontà perché dall'indifferenza e dall'odio l'uomo passi al suo amore e si apre al suo perdono quindi secondo il cristianesimo l'uomo ha la possibilità di dire di sì a dio convertirsi fino al momento della morte con la morte i giochi sono fatti quindi l'uomo non può pentirsi dopo la morte l'uomo non può credere in dio dopo la morte la morte è quindi quel limite invalicabile in cui l'uomo decide il suo sì o il suo no a dio quando si muore secondo il cristianesimo l'anima e il corpo si separano come dice padre livio fanzaga nell'istante in cui ci separiamo dal corpo siamo coscienti che ci separiamo dal corpo secondo la visione cattolica l'essere umano è formato da due elementi il corpo materiale e l'anima spirituale al momento della morte questi due elementi si separano il corpo essendo materia essendo soggetto alle leggi della materia le leggi fisiche ai leggi chi della chimica il corpo si decompone l'anima invece continua a esistere quindi al momento della morte il corpo materiale cessa di esistere si decompone lentamente l'anima essendo spirituale continua ad esistere anche senza il corpo materiale e a questo punto l'anima di una persona viene immediatamente giudicata da dio quindi una persona muore il corpo si decompone e la sua anima viene immediatamente giudicata da dio questo giudizio della singola anima si chiama giudizio particolare quali sono le destinazioni possibili dell'anima sintetizzando sono tre guardate lo schema o l'anima va direttamente in paradiso destinazione 1 o l'anima va direttamente all'inferno destinazione 3 oppure l'anima prima di andare in paradiso diciamo passa per il purgatorio secondo la visione cattolica sintetizzando chi muore e non ha bisogno di essere purificato prima di incontrare dio va subito in paradiso chi muore ed ha commesso peccati gravi e non si è pentito va direttamente all'inferno chi invece muore in grazia di dio ma non è completamente puro e quindi prima di incontrare dio ha bisogno di una purificazione allora va in purgatorio e poi va in paradiso è chiaro che questo schema il linguaggio che sto usando è un linguaggio che ha dei limiti perché perché vedremo che paradiso purgatorio inferno non sono dei luoghi fisici quindi quando si dice va in paradiso è un modo di dire quindi in base a quello che abbiamo detto le anime che diciamo vanno in purgatorio sono sicure dopo la loro purificazione di andare in paradiso cioè il purgatorio non sarebbe altro che una chiamiamola fase temporanea di purificazione dopo questa purificazione le anime vanno in paradiso quindi non si può andare dal purgatorio all'inferno aggiungo che secondo la visione cattolica l'anima che va in paradiso ci rimane per sempre l'anima che va all'inferno ci rimane per sempre quindi paradiso e inferno sono destinazioni che riguardano l'eternità nell'aldilà non avrò un corpo materiale non occuperò uno spazio nell'aldilà non ci sarà il trascorrere del tempo infatti spazio e tempo non sono categorie dell'aldilà lo spazio e il tempo sono proprietà della materia paradiso e inferno non sono luoghi fisici non appartengono al mondo della materia in questo senso spazio e tempo non sono categorie dell'aldilà lo dico in altre parole le dimensioni dello spazio e del tempo sono relative a questo ambito terreno nell'aldilà lo spazio non c'è come dimensione tant'è vero che il paradiso non è un luogo fisico il paradiso non è un pianeta non è una costellazione una stella non c'è un punto dell'universo fisico materiale in cui esiste il paradiso paradiso vuol dire uno stato di esistenza al di là del mondo materiale quindi nell'aldilà non esiste lo spazio nell'aldilà non esiste neanche la dimensione del tempo non c'è il trascorre del tempo spesso faccio questo esempio agli alunni se io muoio in questo preciso istante e voi morite tra cent'anni questo non vuol dire che ci rivedremo tra cent'anni nell'aldilà cioè io muoio adesso e vi aspetto per cent'anni no nell'aldilà la dimensione del tempo non c'è il trascorre del tempo non c'è come dice il cardinal Ravasi noi ragioniamo sempre in termini di tempo che suppongono un prima e un poi e ricorriamo allo spazio che esige un luogo dopo la morte l'essere umano entra nell'eterno e nell'infinito una sorta di stante perfetto in cui tutto si condensa trascendendo ogni durata e spazialità in base a quello che abbiamo appena detto come Dante Alighieri descrive l'aldilà descrive l'inferno, il paradiso, il purgatorio non è una descrizione che va intesa in senso letterale ma è una descrizione che usa un linguaggio metaforico Dante Alighieri non è andato veramente, realmente nell'aldilà immagina un viaggio e nell'aldilà e cerca di descrivere l'aldilà con un linguaggio che appartiene al mondo materiale quindi in sintesi guardate l'immagine il purgatorio per i cattolici non è veramente come lo descrive Dante Alighieri stessa cosa l'inferno e il paradiso è un linguaggio allegorico abbiamo detto che il giudizio particolare è il giudizio di Dio sulla singola anima quindi quando io morirò secondo la visione cattolica la mia anima sarà subito immediatamente giudicata da Dio ma Cristo è nello stesso tempo giudice e salvatore inoltre bisogna considerare che Dio giudica l'anima partendo da una sua conoscenza profonda con quale criterio Dio giudica? secondo la visione cristiana il criterio in cui Dio giudica è l'amore infatti come diceva San Giovanni della Croce alla sera della vita saremo giudicati sull'amore quindi quando semplificando la persona muore in base a quale criterio Dio giudica se l'anima diciamo così va in paradiso va in purgatorio va all'inferno in base a quanto la persona avrà amato questo è il criterio che Dio usa come abbiamo visto il giudizio particolare decide la destinazione definitiva dell'anima e secondo i cattolici l'anima giudicata da Dio va subito immediatamente o in paradiso o in purgatorio o all'inferno quindi secondo la dottrina cattolica non esistono anime vaganti appunto perché l'anima giudicata da Dio va immediatamente nell'aldil va immediatamente in paradiso o in purgatorio o all'inferno possiamo sintetizzare che cosa dice la chiesa cattolica sul purgatorio in tre punti li vediamo il primo esiste il purgatorio che è uno stato di purificazione il purgatorio secondo la visione cattolica non è un inferno mitigato cioè un inferno meno duro no il purgatorio non è neanche un luogo fisico si dice quell'anima è in purgatorio ma in questo caso l'espressione non va intesa in senso letterale è un modo di dire purgatorio non è uno spazio non è un luogo fisico per purgatorio si intende il fatto che un'anima prima di unirsi a Dio e quindi prima di andare in paradiso ha bisogno di essere purificata perché non è ancora pura in che cosa consiste questa purificazione la chiesa cattolica non sa rispondere a questa domanda dice non sappiamo come l'anima viene purificata infatti non è oggetto della fede cattolica che la purificazione avvenga attraverso ad esempio un fuoco materiale o spirituale o avvenga attraverso delle pene corporali inflitte dai demoni semplicemente la chiesa cattolica dice non sappiamo in che cosa consiste questa purificazione nel sedicesimo secolo la chiesa cattolica proibì di aggiungere alla dottrina del purgatorio elementi secondari non veri che confondevano i fedeli come ad esempio affermare che i demoni col permesso di dio visitavano continuamente le anime per tormentarle con innumerevoli supplizi oppure nel diffondere delle liste di peccati con la rispettiva durata dei castighi in purgatorio come se nell'aldilà ci fosse ancora il tempo numero due secondo la visione cattolica le anime in stato di purificazione cioè in purgatorio possono essere aiutate a purificarsi come attraverso la preghiera delle persone viventi delle persone sulla terra o attraverso la celebrazione di messe o azioni opere di carità quindi quindi noi sulla terra possiamo aiutare un'anima a purificarsi il purgatorio pregando per lei facendo celebrare le messe o attraverso delle opere di carità noi possiamo pregare per le anime del purgatorio ma le anime del purgatorio possono pregare per noi qui sulla terra punto 3 secondo la visione cattolica terminata la purificazione le anime sono ammesse subito in paradiso ovvero secondo la chiesa cattolica bene l'anima si è purificata alla fine del purgatorio dice ma deve aspettare il giorno del giudizio per andare poi in paradiso no secondo la visione cattolica una volta che l'anima diciamo si è purificata quindi usiamo questa espressione una volta che è passata per il purgatorio bene può andare in paradiso subito senza prima aspettare il giorno del giudizio ecco l'insegnamento della chiesa cattolica sul purgatorio si riduce a questi tre punti è un insegnamento che deriva da ben quattro concili il primo e il secondo concilio di Lione il concilio di Firenze e quello di Trento tutto il resto appunto i demoni che perseguitano le anime del purgatorio eccetera eccetera non fa parte della fede cattolica ma a questo punto ci domandiamo ma come mai la chiesa cattolica crede nel purgatorio forse ci sono dei versetti della Bibbia che parlano del purgatorio allora allora i protestanti i cristiani protestanti dicono che il purgatorio sarebbe un'invenzione della chiesa cattolica perché i protestanti fanno questo ragionamento dicono ci sono nella Bibbia dei versetti che parlano in maniera esplicita del purgatorio no e allora il purgatorio non esiste ed è un'invenzione della chiesa cattolica quindi infatti come vedremo i cristiani protestanti non credono nell'esistenza del purgatorio invece i cristiani cattolici sì perché la chiesa cattolica crede nell'esistenza del purgatorio la chiesa cattolica fa questo ragionamento dice ok la Bibbia menziona chiaramente il paradiso e l'inferno quindi noi crediamo nell'esistenza del paradiso e dell'inferno perché ne parla la Bibbia in maniera chiara ma riconosce la chiesa cattolica la Bibbia non parla esplicitamente del purgatorio ma allora perché i cattolici vi credono perché la chiesa cattolica si basa sulla Bibbia per insegnare l'esistenza del purgatorio ma non su di un testo concreto e particolare bensì su due idee generali che ripetutamente compaiono nella Bibbia quindi il ragionamento della chiesa cattolica è non abbiamo versetti precisi che parlano in maniera esplicita il purgatorio ma ci sono degli insegnamenti della Bibbia due particolari li vediamo adesso che ci fanno dedurre che il purgatorio esista quali sono queste due idee generali che compaiono nella Bibbia la prima nella Bibbia c'è scritto che solo con una purezza assoluta è possibile comparire al cospetto di Dio che cosa vuol dire questa frase ora Dio è santità e purezza infinita beh allora soltanto un'anima santa e pura può essere ammessa a vedere Dio a entrare in comune con Lui certo se io muoio però nella mia anima c'è ancora egoismo invidia astio cattive inclinazioni attaccamenti disordinati alle creature se io muoio e c'è ancora del male in me beh come faccio a unirmi a Dio Dio è santità e purezza infinita allora questo vuol dire che l'anima che muore certo in grazia di Dio ma comunque non è perfettamente pura beh prima di unirsi a Dio prima di vedere Dio questo vuol dire che Dio la purifica e quindi ecco la prima idea presente nella Bibbia che fa concludere ai cattolici che esiste uno stato di purificazione la seconda idea invece presente nella nella Bibbia è questa Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere nell'altra vita qui si fa riferimento in particolare a un versetto presente nella lettera di San Paolo ai Romani San Paolo dice in sintesi Dio è giusto e quindi nell'aldilà ogni anima riceverà quello che avrà seminato riceverà in base a quanto bene e quanto male avrà fatto ora questo insegnamento quindi secondo la Chiesa Cattolica è presente nella Bibbia e la Chiesa Cattolica riflette e dice Dio renderà ciascuno secondo le sue opere nell'altra vita beh questo vuol dire che se uno muore e non è ancora non è completamente puro beh non può andare direttamente in paradiso come invece un altro che lo è cioè Dio non può compiere delle ingiustizie quell'anima diciamo ha commesso meno peccati di me è più puro tutte e due andiamo però direttamente in paradiso no bene io ho commesso dei peccati io ancora sono molto egoista non ho perdonato quelle persone io insomma non sono completamente puro non è giusto che io vada direttamente in paradiso come un altro e quindi ecco la seconda idea quindi la Chiesa Cattolica crede nell'esistenza del purgatorio non perché se ne parli in maniera esplicita nella Bibbia ma perché nella Bibbia sono presenti questi due insegnamenti che quindi in maniera indiretta fanno pensare all'esistenza di uno stato di purificazione bisogna aggiungere un altro elemento secondo la visione cattolica se io commetto un peccato grave e mi confesso da un sacerdote e ricevo la soluzione la soluzione che mi dà il sacerdote porta come conseguenza che il peccato grave che ho confessato è stato perdonato è stato cancellato quindi perfetto mi sono confessato il peccato che ho commesso non esiste più ma secondo la concezione cattolica ogni peccato diciamo così sintetizzando ogni peccato grave commesso e perdonato bene viene cancellato ma c'è porta comunque un una conseguenza una specie di residuo del peccato che a volte viene chiamato una macchia che rimane diciamo nell'anima della persona quindi secondo la visione cattolica la persona che muore andando nell'aldilà avrà dei peccati che non avrà confessato ma avrà anche dei peccati che sono stati gravi che sono stati cancellati ma che hanno prodotto dei residui queste macchie cosiddette un linguaggio chiaramente allegorico che devono essere purificate quindi anche per questo la chiesa cattolica deduce che bene c'è bisogno di uno stato di purificazione perché l'anima non soltanto non è pura ma ha anche queste macchie o residui che derivano dai peccati gravi che ha commesso che cos'è il purgatorio il paradiso come abbiamo detto è la comunione perfetta con dio ma possiamo raggiungere la perfetta comunione con dio solo se siamo santificati e santi poiché alla presenza di dio non ci può essere alcuna imperfezione nemmeno il minimo vincolo con i peccati per raggiungere il cielo quindi dobbiamo essere santi ora noi siamo stati santificati nel battesimo diventiamo figli di dio e a causa della grazia possiamo iniziare il nostro cammino verso la santità e la perfezione ma questo cammino verso la perfezione di solito lo percorriamo in maniera imperfetta come i nostri peccati e i fallimenti mostrano chiaramente se poi ci pentiamo dei nostri peccati e li confessiamo nel sacramento della riconciliazione siamo perdonati da dio e possiamo tornare sulla retta via bene ma il pentimento e la confessione sono solo due passaggi necessari per lasciare il peccato alle spalle rimane ancora qualcosa che deve essere corretto facciamo un esempio se io rubo dei soldi ad un amico poi me ne pento e gli chiedo perdono è un bene ma anche se mi perdona c'è ancora qualcosa che deve essere fatto la giustizia richiede che io rettifichi il torto in questo caso dovrò certamente restituire il denaro non posso solo dire grazie mille per avermi perdonato ora vediamo dove posso trovare un nuovo televisore no devo cercare di riparare il danno e forse sarebbe giusto anche provare a fare qualcosa che mostri l'autenticità del mio rimorso e possa ripristinare la fiducia della nostra amicizia e questo è effettivamente il caso di tutti i peccati anche dopo che ce ne siamo pentiti e confessati dobbiamo cercare di riparare il danno che abbiamo fatto e fare penitenza in più i peccati lasciano sempre alle spalle un qualche tipo di disordine e un attaccamento patologico agli effetti del peccato e questo non scompare automaticamente solo perché siamo pentiti dei nostri peccati si può vedere questo in particolare con i peccati che sono diventati un'abitudine possiamo pentirci sinceramente ma è ancora necessario anche dopo il pentimento combattere la cattiva abitudine e l'inclinazione al peccato quindi vediamo che i peccati anche quelli già pentiti producono delle conseguenze prima di tutto queste conseguenze necessitano di riparazione e di espiazione in secondo luogo il disordine creato dai peccati deve essere superato la penitenza aiuta in entrambi i casi quali sono gli atti di penitenza beh c'è la penitenza che riceviamo nel confessionale e ci sono altre opere di penitenza come la preghiera il digiuno o sopportare con pazienza una situazione difficile o dolorosa giusto per essere chiari i nostri atti penitenziali non tolgono nulla al fatto che Cristo ha espiato i nostri peccati al contrario i nostri atti penitenziali hanno effetto solo a causa di Cristo perché sulla croce rese possibile la grazia che rende i nostri atti davvero parte del cammino verso la santità va bene abbiamo parlato molto del peccato delle sue conseguenze cosa ha a che fare tutto questo con il purgatorio come vedremo ora un sacco proviamo a spiegare se ci pentiamo dei nostri peccati e li espiamo allora li abbiamo veramente lasciati alle spalle così possiamo essere puri e santi davanti a Dio ed entrare in paradiso tuttavia se c'è qualcosa per esempio un peccato leggero di cui non ci siamo pentiti o qualcosa che non è stato espiato o ancora non sentiamo il rimorso per gli effetti di qualche peccato allora dobbiamo ancora purificarci e questa purificazione avviene in purgatorio il purgatorio è il luogo per la purificazione delle anime in purgatorio vanno tutte quelle anime che non hanno ancora l'amore perfetto con Dio che devono completare l'unione con Dio esse entreranno nel regno di Dio una volta purificate parlando del purgatorio voglio leggervi un brano preso dal diario di una santa cattolica la santa si chiamava Suor Faustina Kowalska ne abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti Faustina Kowalska era una suora una suora polacca dichiarata santa dalla chiesa cattolica lei ha scritto un diario in cui scriveva quello che le accadeva leggiamo un brano di questo diario in cui lei parla del purgatorio 1933 Santa Faustina scrive una volta di notte venne a trovarmi una delle nostre suore che era morta due mesi prima la vidi in uno stato spaventoso tutta avvolta dalle fiamme con la faccia dolorosamente stravolta l'apparizione durò un breve momento e scomparve i brividi trapassarono la mia anima ma pur non sapendo dove soffrisse se in purgatorio o all'inferno raddoppiai in ogni caso le mie preghiere per lei la notte seguente venne di nuovo ed era in uno stato ancora più spaventoso tra fiamme più fitte sul suo volto era evidente la disperazione rimasi molto sorpresa di vederla in condizioni più orribili dopo le preghiere che avevo offerto per lei e le chiesi non ti hanno giovato per nulla le mie preghiere mi rispose di no e io le dissi se le mie preghiere non le giovano per niente la prego di non venire da me e scomparve immediatamente io però non cessai di pregare dopo un certo tempo venne di nuovo da me di notte ma in uno stato diverso non era tra le fiamme come prima e il suo volto era raggiante gli occhi brillavano di gioia e mi disse che avevo il vero amore per il prossimo che molte altre anime avevano avuto giovamento dalle mie preghiere e mi esortò a non cessare di pregare per le anime sofferenti nel purgatorio e mi disse che essa non sarebbe rimasta a lungo in purgatorio i giudizi di Dio sono veramente misteriosi questo è quello che scrive una santa cattolica suor Faustina Povasca a riguardo del purgatorio aggiungo a quello che ho detto precedentemente per quanto riguarda la fede della Chiesa cattolica nel purgatorio che la Chiesa cattolica crede nell'esistenza del purgatorio anche basandosi sull'antichissima prassi presente nella Chiesa di rivolgere preghiere ai defunti verso i defunti cioè la Chiesa cattolica nel credere nell'esistenza dell'aldilà fa anche quest'altro ragionamento e dice i cristiani hanno sempre pregato per le anime dei defunti per coloro che sono morti quindi c'è esiste una fede che se io prego per una persona defunta la mia preghiera porterà un giovamento la mia preghiera servirà a qualche cosa per il defunto ora diciamo ragiona sempre la Chiesa cattolica se un'anima è all'inferno l'inferno è per sempre è senza via d'uscita non c'è bisogno che non ha senso pregare per un'anima che sta all'inferno perché quest'anima non avrà nessun giovamento della mia preghiera l'inferno è eterno e per sempre non si può cambiare stessa cosa al paradiso che senso ha che io preghi per un'anima che sta in paradiso è già in paradiso è già in comunione con Dio la mia preghiera non le porterà nessun giovamento quindi se i cristiani hanno sempre pregato per i defunti vuol dire che è presente nella Chiesa una fede nel fatto che le preghiere per i defunti possono portare giovamento e quindi esiste uno stato di purificazione in cui le preghiere dei vivi di coloro che sono sulla terra a cui possono contribuire attraverso le loro preghiere abbiamo visto che cosa crede la Chiesa Cattolica riguardo al purgatorio vediamo in sintesi adesso che cosa credono invece i cristiani ortodossi sul purgatorio i cristiani ortodossi dicono i santi e i martiri vanno subito in paradiso le anime degli altri defunti dimorano in uno stato intermedio in attesa del giudizio finale in sintesi ecco un po' la fede di un cristiano ortodosso per quanto riguarda il purgatorio e vedete che qui c'è una differenza tra quello che credono i cattolici e quello che credono gli ortodossi sul purgatorio qual è la differenza i cristiani ortodossi dicono i santi e i martiri bene facile sono puri vanno direttamente in paradiso subito e tutti gli altri e quelli che non vanno subito in paradiso secondo i cristiani ortodossi le anime le anime degli altri defunti dimorano in uno stato intermedio chiamato ade in attesa del giudizio finale che segnerà il loro destino ultimo inferno o paradiso quindi i cristiani ortodossi dicono tutti gli altri defunti tutte le altre anime stanno in uno stato intermedio io lo chiamo una specie di sala d'attesa e rimangono in questo stato intermedio fino al momento in cui ci sarà il giudizio finale quindi vedete la differenza con i cattolici il cattolico dice l'anima che non è perfettamente pura viene purificata purgatorio e poi una volta che la sua purificazione è terminata subito va in paradiso non aspetta il giorno del giudizio invece i cristiani ortodossi dicono i santi e i martiri subito in paradiso direttamente tutte le altre anime aspettano stanno in uno stato intermedio diviso in due parti una parte per le anime che poi andranno all'inferno un'altra parte per le anime che poi andranno in paradiso quindi una specie di sala d'attesa divisa in due coloro che avranno come destinazione definitiva il paradiso e coloro che invece andranno all'inferno abbiamo visto quello che credono i cattolici e gli ortodossi sul purgatorio bene andiamo a vedere cosa ne pensano invece i cristiani evangelici o protestanti per i cristiani cosiddetti protestanti il purgatorio non esiste il purgatorio sarebbe un'invenzione della chiesa cattolica l'utero affermò che il purgatorio e tutte le solennità che vi si riferiscono sono una maschera del diavolo e costituiscono una contraddizione solenne col primo articolo il quale insegna che la liberazione delle anime è soltanto in cristo e non nelle opere degli uomini inoltre sempre secondo lutero l'esistenza del purgatorio non può essere provata dalle sagre scritture calvino fu più duro di lutero affermando che bisogna dunque gridare a voce alta che il purgatorio è una finzione perniciosa di satana la quale fa una vergogna molto grande alla misericordia di dio e rende vanna la croce e aggiunge calvino il sangue di cristo è la sola purificazione oblazione e soddisfazione per i peccati dei fedeli quindi cattolici ortodossi e protestanti hanno idee diverse per quanto riguarda l'esistenza del purgatorio di scrittura di scrittura di scrittura di scrittura